il visionario non è soltanto un sognatore ma una persona dalla fantasia per così dire applicativa uno che il percorso lo vede dal concepimento alla realizzazione la camera di commercio chieti pescara si è lasciata ispirare da erasmo da rotterdam secondo il teologo umanista olandese infatti le idee migliori non vengono dalla ragione ma da lucida e visionaria follia nasce così il primo adriatic innovation forum la manifestazione si svolgerà al porto turistico marina di pescara dal 17 al 19 novembre è un forum dedicato alle idee all'innovazione alla ricerca del digitale è un forum dedicato ai cervelli che vogliono crescere e si mettono a disposizione della comunità per ricerca generalizzata su tutti è aperta a tutti i settori di ricerca partecipazione anche degli studenti con delle iniziative proprio dedicate a loro come l'hackathon sì è un evento che io considero molto importante perché ci sono presenza di autorità nazionale e internazionali e ci auguriamo che ci sia un ottimo risultato perché abbiamo anche delle speranze di ottimi progetti presentati secondo lei quali sono i settori su cui puntare quei settori che i giovani appunto devono particolarmente tenere d'occhio per il futuro in questo momento credo che la cosa che vada vada più attenzionata e l'ambiente le ricerche sulle energie rinnovabili ricerche sull'accumulo dell'energia perché oltre a cercare energie pulite bisogna anche cercare poi di non sprecarla per cui se riuscissimo a trovare la possibilità tecnica di poterla accumulare l'energia che istantaneamente noi perdiamo avremmo già recuperato probabilmente un 30 per cento dell'energia che nel mondo si sprega